Lei prende il vitalizzo già da qualche anno? No, assolutamente no. È una cosa che si racconta che corre su. Si racconta che lei ha 50 anni ha preso il vitalizzo. Ma manco per niente. No, no, io non prendo... Non li dimostra 50 anni, però è successo. Per chi sia noto che io non prendo un euro... Da quando c'è stata la carica del parlamentare, cioè nell'anno 2000, io non prendo nemmeno un euro e non ho benefici di nessunissimo tipo, perché se per questo mi accreditano anche la macchina, la scorta... Quindi il vitalizzo lei non lo prende? Io non ho la scorta dal 1997, non ho una macchina con l'autista dall'anno 2000 e non ho mai preso il vitalizzo. E questa storia che lei ha 50 anni ha preso il vitalizzo non è vera? No.